Consigliere Pettinari, si parla oggi di Fiume Pescara, di questo progetto per la costruzione di vasche di laminazione per combattere l'esondazione del Fiume Pescara, un progetto che voi criticate ma c'è anche dell'altro. È un progetto faraonico che costerà alle casse pubbliche 54 milioni di euro. Sono vasche di laminazione, grandi colate di cemento, approvate da Regione Abruzzo appunto, che andrebbero realizzato sui territori di Cepagatti, Rosciano, Manopello e Chieti. Noi ci siamo posti fin dall'inizio a queste grandi colate di cemento e abbiamo fatto una proposta alternativa, proposta di tanti laghetti naturali che avrebbero risolto veramente il problema. Oggi arriva il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che praticamente dà ragione al Movimento 5 Stelle, ma noi non vorremmo avere ragione. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 gennaio 2017 dice che questo progetto non sembra risolvere i grandi problemi dell'allagamento della città di Pescara e quindi l'esondazione del Fiume Pescara. Questo è un parere a mio avviso molto importante al quale l'amministrazione regionale dovrebbe attenersi perché sono in ballo 54 milioni di euro dei cittadini e non vorremmo che dopo aver speso 54 milioni di euro dei cittadini ci accorgiamo che in effetti ha ragione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel dire che questo progetto non risolverà i problemi. E quindi noi per l'ennesima volta siamo qui a dire fermiamoci, basta. Abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente del Regione Abruzzo per fermare, scongiurare la realizzazione di quest'opera e sposare il progetto alternativo naturale, possiamo dire, del Movimento 5 Stelle.